R101 stories fammi le storie c'è anche la tua stories R101 eccoci siamo qui fino alla mezzanotte in questo giovedì sera R101 stories e gioco delle cime oh non vediamo l'ora tra l'altro stasera ci sarà un personaggio da indovinare sapete che gioco delle cime cambia su per giù ogni sera stories e sono molto curiosa di capire se ci è arrivata l'abbiamo costruito in maniera molto doviziosa. Sì ci siamo messi lì e vediamo se qualcuno lo prende questa sera è un'altra nuova storia stories è un recente uno ed è toccato ad Enrico Nigiotti portarci alla conclusione delle nostre due ore di bassa fedeltà on air un programma che torna ogni giovedì dalle 21 alle 23 la domenica dalle 16 alle 18 sempre qui su Radio Pianeta la missione è quella di scoprire musica nuova se volete mandare le vostre segnalazioni scriveteci attraverso i social bassa fedeltà on air scritto tutto attaccato e senza accenti vi permetterà di recuperare anche i tag i profili legati alle band che passano da noi in questa puntata abbiamo avuto due super ospiti prima i The Blue Beaters che sono in tour in un tour che li porterà fino in Colonia in Germania e poi con noi Nestor dei Nobraino in rappresentanza dei Nobraino che il 22 di agosto saranno qui per l'inaugurazione della 32esima del Boom Boom Festival di Trescore Balneario ingresso gratuito e come abbiamo sentito sarà un live veramente travolgente quella dei Nobraino concludiamo questa puntata invece con degli altri ospiti nostri degli ultimi mesi si tratta degli Odal che ci salutano con polvere per le mail se volete scrivermi l'indirizzo è Luca Bassani chiocciola radiopineta.it se volete tra sette giorni siamo ancora qui ciao su Radio Norba le 23 e un minuto Radio Norba la radio di su Radio Norba Post Malone Morgan Wallen insieme la musica di R101 proprio firmata da loro con I Had Some Help e tra poco anche un'occasione per scegliere un disco tutto vostro tutto vostro sì 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 e poi più avanti ci sarà anche il momento del Leo Manu Ciao abbiamo già ascoltato la colonna sonora del gioco e la riascolteremo più avanti proprio all'interno del momento Leo Manu Ciao sempre qui in diretta su R101 Stories Corri da Troni fino al 24 luglio prendi tre e paghi due acquista tre prodotti il meno caro è in regalo come la scopa ricaricabile Samsung Jet con spazzola lava pavimenti in regalo regolamento nei punti vendita Troni non ci sono paragoni lunedì sera la Poste Pay martedì mattina la Poste Pay mercoledì il frigo è vuoto ordino la cena con la Poste Pay giornedì mattina la Poste Pay venerdì sera non volevo uscire ma ecco che mi arriva lo stipendio l'ora tutto in giro con la Poste Pay sabato sera la Poste Pay Poste Pay Every Day con Poste Pay Evolution richiedila in ufficio postale in app Poste Pay o su poste pay.it messaggio pubblicitario con finalità promozionale per le condizioni contratuali ed economiche consulta il foglio informativo in ufficio postale su Poste.it stanco dello sporco ostinato? approfitta della grande promozione Chanteclair fino al 2 settembre acquista due sgrassatori spray uno te lo rimborsiamo regolamento completo su premiati con il mondo del pulito punto it Chanteclair il gallo del pulito narratori e narraprici di stories tra poco un momento molto bello che si chiama la canzone che ti fa stare bene una canzone che vi ricorda emozioni, sensazioni, paesi, amici e che potete scegliere voi al 331 80 90 101 Da Euronix il sottocosto è bello fresco solo fino al 14 luglio in negozio online Smart TV LG 75 pollici a soli 699 euro 500 pezzi totali Euronix un mondo più avanti Peccato non lo potete vedere ma lui è Paolo 320 traslochi all'anno 30 km al giorno con il suo van sempre preciso e punto Anche i migliori professionisti possono avere bisogno di Quixa Van & Job che assicura online e con un unico contratto il tuo furgone e gli imprevisti della tua piccola impresa Quixa L'assicurazione semplice inizia da qui Quixa è parte della famiglia XA prima della sottoscrizione leggi il set informativo su Quixa.it Maestro in quest'ora così buia come vederci chiaro? Che ola è? Le due di notte In quest'ora buia è di tutta la farmacia all'angolo Farmacia? Chiedi contatta ci vedrai chiaro Fidati del tuo farmacista con le lenti giornaliere contatta per la miopia vedere bene è facile a qualsiasi ora contatta benessere degli occhi In farmacia è pala farmacia Para E che ho detto? Pala, pala è un dispositivo medico CE 0123 leggere attentamente le avvertenze Aukin San Scopri i vini Rapitala ed entra anche tu nel giardino di Sicilia dove ogni frutto è una scoperta e ogni ispirazione diventa un'opera d'arte qui ogni grappolo ha una storia che noi di Tenuta Rapitala vogliamo accudire tramandare e celebrare Tenuta Rapitala Giardino di Sicilia Fino a dicembre in regalo con i vini Rapitala un corso con i migliori chef di Accademia TV Regolamento dell'operazione a premi su Rapitala ti regala ai grandi chef punto it I never thought I'd become Cabin Crew but now I'm living my dream I've seen elephants on an African safari shopped in New York and swam with dolphins in Mauritius Can you believe I get paid to be there? You could too when you join Emirates Cabin Crew Fly to over 130 cities get amazing hospitality training a tax-free salary and free accommodation in Dubai apply now at emiratesgroupcareers.com and start a career that takes you around the world Sudare ti pesa? Scegli il tuo alleato contro la sudorazione eccessiva Scopri Perspirex l'antitraspirante senza profumo efficace fino a 5 giorni disponibile in farmacia e parafarmacia lo sport lo insegna agilità versatilità Suzuki compatta ibrida e anche 4x4 tecnologia da incentivi fino a 14.500 euro di vantaggi info su suzuki.it Suzuki è ora di cambiare la cucina Aran Cucine è la scelta migliore per la cura dei dettagli rispetto per l'ambiente e l'innovazione e dentro il 31 luglio acquistando una cucina Aran con elettrodomestici Hotpoint avrai piano di lavoro piano cottura di induzione lavastoviglie a solo un euro pagando incomode rate a tasso zero vero scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it Prova sa sa la la mi 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 sono i re degli aperitivi da Beretta e Salamini classico piccante fumicato un'altra musica per il palato con Salamini e Beretta non c'è partita partecipa al concorso pronti per l'aperitivo puoi vincere Nintendo Switch e TV Samsung fino al 27 settembre 2024 regolamento su Salamini punto it passa a Dyson risparmia 200 euro su V15 Detect scopri di più su Dyson punto it e nei Dyson Store pagamento a rate senza interessi e reso gratuito su Canale 5 in estate c'è musica i più grandi artisti italiani ed internazionali insieme per una grande festa siete pronti? condotto da Hilary Blasi con Alvin tanta musica e divertimento cornetto battiti live da lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5 stiamo arrivando chi di voi vuole provare un aperitivo insolito quanto insolito? insolito quanto un Hendrix & Tonic per la Roma undici botaniche per il gusto cetriolo e rosa e poi per la decorazione tre fette di cetriolo gli altri gin sono ordinari ma Hendrix Gin è l'insolito gin per il tuo aperitivo bevi responsabilmente Manu Manu per i professionisti la scelta giusta è l'app Manu Manu Pro materiale pro a prezzi negoziati consegna resi gratuiti e sconti esclusivi fa venire voglia di scopri l'app di Manu Manu Pro Manu Manu Pro ci diamo da fare per te offerta riservata ai professionisti info su manomanopro.it la canzone che la canzone che la canzone che ti fa stare ti fa stare bene wow fa venire voglia di cantarla questa sigla proprio la stavo canticchiando la canzone che ti fa stare bene ma allora cantate la sigla nel messaggio che inviate e poi richiedete anche la canzone che volete ascoltare in diretta se volete cantate un pezzettino anche della canzone l'importante è che ci richiedete un titolo un'artista che vi fa stare bene che vi mette di buon umore che magari non ascoltate anche da tanto tempo al numero della diretta 331 80 90 101 la musica che mi fa stare bene la musica che mi fa stare bene oggi è just another day di john secada anno 1991 io avevo 14 anni e la sandoria vinceva lo scudetto è la canzone che ci fa stare bene ci mette di buon umore di buon umore e siamo di buon umore tra l'altro l'amica che l'ha richiesta ha anche detto forse era un amico ah l'amico si che ha parlato della sandoria esatto quell'anno cosa succedeva l'anno vinceva il suo scudetto era il 1990 1991 in realtà questa canzone è del 1992 quindi probabilmente ascoltando questa canzone poi l'è venuto in mente il ricordo dello scudetto della sandoria domani torneranno le partite degli europei ci sono grandi partite dei quarti di finale ci sarà portogallo francia che è già quasi una finale ma nel 2006 proprio oggi 4 luglio signore e signori cosa accadeva sentivamo noi italiani questo andiamo a Berlino andiamo a Berlino andiamo a prenderci la coppa andiamo a Berlino andiamo a prenderci la coppa uno spettacolo uno spettacolo uno spettacolo senti anche Berlino siamo rimbetti anche Bergomi l'aveva sbagliato così nel 2000 contro la Francia in finale che meraviglia che meraviglia ci aggrappiamo ai ricordi brava perché proprio a Berlino pochi giorni fa l'Italia ha perso con la Svizzera quindi dobbiamo per forza ma per forza guardare al 2006 se no non eh sì non andiamo avanti e giusto l'Italia batteva la Germania due a zero per chiudere con le storie tristi uno dice vabbè abbiamo parlato di qualcosa di nostalgico e un po' tristino guardando oggi non vi lasciamo con una cosa allegra ma con un'altra storia che arriva sempre da oltreoceano se non erro ma in ogni caso abbiamo parlato di matrimoni matrimoni con cose strane questi ragazzi hanno organizzato tutto si sono sposati avevano il ristorante pronto l'avevano concordato fanno la cerimonia arrivano al ristorante e lo trovano chiuso questa sera è un'altra nuova storia r101 stories fra mille storie c'è anche la tua stories r101 giovedì sera di r101 c'è stories fino alla mezzanotte Manu, Leo anche Davide Cisini in regia e la super civetta che c'è sempre la mascotte la mascotte doppia civetta e poi le storie che arrivano dalla vostra serata dai programmi che avete in ballo in questo preciso momento e dalla possibilità di condividerli insieme proprio con noi Leo e Manu tutto questo c'è pochissimo questa sera è un'altra nuova storia stories r101 esce a Zaiang siamo su r101 questo programma si chiama stories è l'ultima puntata della settimana e poi ci daremo un appuntamento alle venti di lunedì prossimo e c'è sempre un momento tradizionale oramai è una consuetudine mi piace continuare a parlare per ritardare il momento della film ritardiamo il più possibile anche perché forse l'avevo già detto mi viene sempre in mente questa canzone che esce a Dayang del 2012 avevo il mio primo cellulare al tempo ed è stata la mia prima suoneria che ho messo sul cellulare non me lo ricordavo un tempo si usava mettere ormai credo che tutti hanno le suonerie quelle basiche del telefono aspetta facciamo imbarazzare il nostro direttore Daniele Tognacca in diretta il nostro direttore sceglie la suoneria e la cambia costantemente ma sai qual è no allora l'ultima in ordine di tempo non me la ricordo c'è stato un periodo che aveva come si chiama una delle colonne sonore di Pablo Escobar soia il fuego bravo bravo quella eh beh andava molto al tempo sì 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 no però diciamo che si usa meno di un tempo almeno io io non lo faccio più un tempo lo facevo e mi ricordo che insomma il mio primo cellulare ascoltavo questa canzone bello ora ascoltiamo invece sì prego ah giustamente Cisi deve far partire in maniera ufficiale il momento Leo Manu Ciao finalmente Leo Manu Ciao che questa sera anche è un antipasto perché ci scrive un amico Leo Manu Ciao in questo momento siete con me affacciati alla finestra mentre osservo i festeggiamenti della contrada dell'onda che ha vinto il palio e mi godo c'è il palio di Siena mi godo il panorama dall'alto non sono di Siena ma sono felice per la contrada in cui vivo e sono belle le tradizioni del nostro bellissimo paese Stefano un lucano a Siena wow grazie per averci ricordato che si è tenuto anche quest'anno una delle manifestazioni folkloristiche più famose che abbiamo in Italia a Siena ci ha detto anche chi ha vinto ecco la modalità è questa e lui l'ha fatta proprio perfettamente Leo Manu Ciao in questo momento siete con me a raccontandoci per filo e per segno il programma di questa serata esatto che siate al palio che siate a un evento sportivo che siate a un concerto che siate in direzione casa da una giornata di lavoro che stiate cucinando mangiando o facendo qualcosa anche di divertente raccontatecelo il numero è il 331 80 90 101 potete farlo attraverso nota vocale arrivano loro sentito la peyote gli articolo 31 Fabri Fibra Rocco Ant su R101 nel momento Leo Manu Ciao in cui ci stiamo un po' scambiando i programmi di questa serata c'è chi è alle pendici dell'Etna spettacolo stiamo tornando dicono a casa quindi si sono goduti questa uscita in un posto meraviglioso alle pendici dell'Etna con i nostri genitori Diana e Sveva in questo momento in macchina appunto di rientro due bellissimi nomi tra l'altro originali e Sveva soprattutto un nome che mi piace molto mi rivolgo ai genitori le avete assaggiato il fuoco dell'Etna che è un liquore di una bontà allucinante che si beve proprio lì beh loro sono stati alle pendici quindi non so esattamente che giri hanno fatto io ero salita un pochettino verso il vulcano e mi era rimasto particolarmente impresso il sapore e chissà cosa avranno mangiato e bevuto di buono anche perché si mangia molto bene secondo me dove si starà mangiando anche tanto è negli Stati Uniti oggi giorno festa dell'indipendenza Happy Independence Day Independence Day yes Independence Day si starà mangiando tantissimo pensa che leggevo che il 4 luglio quindi oggi si fa sempre questo concorso di mangiatori di hot dog per festeggiare per festeggiare l'indipendenza la sua 106esima edizione il detenitore di questo record è riuscito a mangiare 72 hot dog aspetta in 10 minuti sto male per lui è il tempo in cui te ne mangi uno sì un po' di citrosodina per il man qua veramente il bro eh però è un avvenimento fa parte dai anche un po' del folklore prima parlavamo del folklore italiano e il 4 luglio invece è proprio una festa che gli americani amano festeggiare tra poco ne continuiamo a parlare ma vista l'ora ve lo chiediamo se siete negli States e state festeggiando raccontatelo in diretta al 331 80 90 101 la voce di Sia e anche i testi lei è stata autrice per moltissimi anni di grandissimi artisti e l'abbiamo ritrovata con la sua Gimme Love su R101 ancora l'occasione per inviare i messaggini per il Leo Manuciao esatto ovunque voi siate lei viene dall'Australia abbiamo parlato di America del giorno dell'indipendenza o anche se siete in Italia quello che state facendo in questo giovedì sera al 331 80 90 101 una nota vocale nel momento Leo Manuciao questa sera è un'altra nuova storia Stories R101 Sustainium presenta le sfide di Federica Pellegrini ok Fede devi dire in tre secondi questo scioglilingua pronti via se sostieni che Sustainium ti sostiene sostieniti con Sustainium con Sustainium Plus e la sua formula specifica è l'energia fisica e mentale per vincere le sfide di ogni giorno Sustainium Plus dai energia la tua energia goditi la musica di R101 dalla tua tv vai sul canale 67 del digitale terrestre R101 Corri da Troni dal 27 giugno al 24 luglio prendi tre e paghi due acquista tre dei tantissimi prodotti in promozione il meno caro è in regalo approfittane subito regolamento nei punti vendita Troni non ci sono paragoni Teenage Dream Party una serata unica per chi è stato adolescente negli anni duemila il party itinerante per chi ha voglia di cantare ballare e divertirsi Teenage Dream Party 12 luglio Flowers Festival Torino 31 luglio Spiaggia del Faro Iesolo 2 agosto Beach Arena Rimini e tante altre date acquista il tuo biglietto su Teenage Dream Party Radio Ufficiale R101 Io Carlo scelgo scelgo Iliad DDC a Iliad Scegli l'offerta per clienti provenienti da Vodafone Team Win 3 Fast Web e operatori virtuali Insomma tutti sì proprio per tutti 180 giga con 5G incluso a 9,99 euro per sempre Info su offerta copertura e dispositivi compatibili con rete 5G Iliad su Iliad.it Entrare per credere Su Canale 5 in estate c'è musica Dove sei io? I più grandi artisti italiani ed internazionali insieme per una grande festa Siete pronti? Condotto da Hilary Blasi con Alvin Tanta musica e divertimento Cornetto Battiti Live Da lunedì 8 luglio in prima serata Su Canale 5 Stiamo arrivando Questa è la radio che ti fa stare bene R101 Enjoy the summer Enjoy the music R101 I pinguini tattici nucleari Ringo Starr su R101 A Stories alle 22.36 di questo giovedì sera Nel momento Leo Manucio Abbiamo visto un po' anche Paglio di Siena Abbiamo parlato di Independence Day Vediamo dove altri ci portate Dai vediamo localizzateci Radio 101 Siamo a Milazzo Sono Carmelo, Maria, Federico, Claudio, Iris e Francesco Siamo in vacanza Vi salutiamo tutti Un bacio ragazzi Euiua Sei dal tono? Sembra Spampa Junior Vero, vero, vero Però Spampa, Puglia Gli amici, Milazzo, Sicilia Milazzo, Sicilia Ma in vacanza Ma chissà meglio di voi Ma si sentiva dalla voce Che se la passavano bene Bravi ragazzi Grazie di averci portato in vacanza insieme a voi Leo, Manu, ciao Siamo ancora Diana e Sveva Adesso siamo ancora per strada Abbiamo visto che Letna sta iruttando Ciao Ma davvero Spero sia una bufala a questo punto Così tipo In questo momento Letna no Vabbè ma sì Ma in realtà erutta spesso Sì 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 Delle cose molto leggere Cinque ore fa Etna Eruzione in corso La cenere ricade anche su Catania Eruzione in corso Grandi fontane di lava dal cratere Pazzesco Sperando e credo anche da quello che leggo Che sia una roba innocua Deve essere un bello spettacolo da vedere Un po' Dà un po' fastidio per chi vive lì Nel senso che poi si ritrova la cenere È vero è vero è vero E anche una delle ragioni Mi spiegava uno storico dell'arte Quando sono andata a visitare Catania Del motivo di tante facciate Dei palazzi a Catania scure Proprio per quella ragione lì Per la fuligine della lava Sì 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 Assolutamente 331 80 90 101 Se volete con una nota vocale Raccontarci i vostri programmi di questa sera Nel momento Leo Manu ciao Cioè iniziate proprio così il messaggio Leo Manu ciao In questa serata siete con me Ditecelo voi Enjoy the music Beyoncé Texas Hold'em Benvenuti su R101 Questa ultima puntata della settimana di Stories Un gioco che abbiamo abbandonato poco fa Ma un altro che arriverà nell'ora successiva Tra una ventina di minuti circa Esatto e tra pochissimi minuti invece Arriverà anche la canzone che ti fa stare bene Questo appuntamento che cade ogni ora All'interno della diretta Scegliete voi la musica da ascoltare Al numero della diretta Questa sera È un'altra nuova storia Stories R101 Tra palme e cammelli in quel dell'Egitto La grande Cleopatra emanava un editto Per ordinanza basta gonfior di panza Poi l'intuizione Entero germina gonfiore L'integratore ad azione rapida e prolungata contro il gonfiore Entero germina gonfiore Dal tuo intestino La tua leggerezza Entero germina Andrea Bocelli Un evento senza precedenti in Toscana a luglio 33 più grandi artisti italiani e internazionali Saliranno sul palco del Teatro del Silenzio Per celebrare il trentennale della sua carriera Andrea Bocelli trentennale Prenota il tuo biglietto ora su Viva Ticket Prova Sa Sa La 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 Mimimini Sono i re degli aperitivi Da Beretta e Salamini Classico Piccante Fumicato Un'altra musica per il palato Con Salamini e Beretta Non c'è partita Artecipa al concorso Pronti per l'aperitivo Puoi vincere Nintendo Switch e TV Samsung Fino al 27 settembre 2024 Regolamento su Salamini.it Stanco dello sporco ostinato? Approfitta della grande promozione Chanteclair Fino al 2 settembre acquista due sgrassatori spray Uno te lo rimborsiamo Regolamento completo su Premiati con il mondo del pulito.it Chanteclair Il gallo del pulito Su Canale 5 in estate c'è musica Dove sei io? I più grandi artisti italiani ed internazionali insieme per una grande festa Siete pronti? Sì! Condotto da Hilary Blasi con Alvin Tanta musica e divertimento Cornetto Battiti Live Da lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5 Stiamo arrivando! Io Carlo scelgo... Scelgo Iliad DDC a Iliad Scegli l'offerta per clienti provenienti da Vodafone Team Win3 Fast e Be Operatori Virtuali Insomma tutti sì, proprio per tutti 180 giga con 5G incluso a 9,99 euro per sempre Info su offerta, copertura e dispositivi compatibili con rete 5G Iliad su Iliad.it Entrare per credere Un quarto d'ora alle 23 della sera su R101 È il momento della canzone che ti fa stare bene La scegliete sempre voi e diciamo che ha l'obiettivo un po' di farci passare qualche minuto di leggerezza e anche di ricordo di qualcosa del passato E allora alzate il volume della radio se state ascoltando da lì Dal telecomando della TV se guardate e ascoltate dal 67 E dall'app direttamente dal telefonino e scegliete la canzone che volete condividere Ciao ragazzi! La canzone che potrebbe farmi stare bene è Money dei Simpli Lab Un saluto da Lignano Ti essi per la canzone che ti fa stare bene e il titolo è Money is too tight to mention Eh allora, penso se era lunedì come lo dicevi Beh, volavo Volavi, volavi, volavi Era il 1986 e siamo nel momento Leo Manu Ciao invece adesso alle 22.49 E ci state raccontando cosa state facendo questa sera Ciao siamo Cristina e Filippo, noi da Catania ci stiamo spostando all'aeroporto di Comiso Perché causa eruzione dell'Etna tutti i voli sono stati dirottati Ma ogni volta un macello sta cosa E lo stiamo scoprendo grazie a voi perché ci era sfuggita la notizia Quindi grazie di avercelo detto e si crea sicuramente un po' di disagio anche perché si deve spostare Buon viaggio ragazzi, speriamo che sia un viaggio di vacanza, godetevelo e non badate a questo piccolo ostacolo insomma del percorso Ci sta Ciao ragazzi, buona serata da Alba in rietro da un'ottima cena con un collega arrivato da Perugia E pronti via per l'ultima giornata di lavoro in trasferta Un grande abbraccio dal mitico Mao, ciao Mao Il grande Mao, nome tipico della zona Nome tipico, oh sì Perugia no, in realtà era l'amico però di dove ci stava scrivendo a lui E va bene dai, una buona serata e un buon lavoro soprattutto a te, domani a tutti Questa è una canzone che mi fa sempre venire voglia di comprare gli stivali con gli speroni Questo country un po' pop Beyoncé, Texas Hold'em qui su R101 nel nostro sabato sera insieme Enjoy the weekend con i vostri messaggi ma soprattutto le voci al 331 80 90 101 Innanzitutto volevo salutare un amico a cui è appena tornata l'elettricità e quindi ha acceso il condizionatore Che in questi momenti diciamo che può fare la differenza tra un buon sabato e uno un po' meno sereno Sentiamo però una voce Ciao, siamo Valentina, Massimo e Alice Siamo in una fila super galattica all'uscita Bari Sud per andare a vedere il concerto di Max Pezzali Ma un po' di fila per il buon Max direi che anche quella è cosa buona e giusta per Max Pezzali Si può sopportare assolutamente un po' di coda 331 80 90 101 amici per i programmi del vostro sabato sera subito Shakira Cardi B punteria Enjoy the music Shakira Cardi B il loro ultimo singolo si chiama punteria alle 20 e 23 minuti di questo sabato sera insieme Daiaki una buona serata a tutti, buon viaggio agli amici che sono in macchina Siete su R101 quindi state con noi Che relax Senti i gabbiani E il suono del mare Ma cosa dici se non siamo ancora partiti? È vero, ma con il nuovo salotto da giardino di Leroy Merlin mi sembra di essere già in vacanza Solo da Leroy Merlin fino al 29 luglio c'è un'estate di super offerte in tutti i negozi Online e al telefono Arredo giardino, climatizzatori, vernici, finestre e tanti altri prodotti scontati fino al 50% Offerta soggetta a limitazioni, scopri i dettagli in negozio su Leroy Merlin.it Leroy Merlin, voglia di fare casa Amici sono tantissimi modi per ascoltarci in tv, in radio, sul vostro smartphone, scaricando l'app Ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news www.r101.it Sudare ti pesa? Scegli il tuo alleato contro la sudorazione eccessiva Scopri Perspirex, l'antitraspirante senza profumo, efficace fino a 5 giorni Disponibile in farmacia e parafarmacia Nuova gamma Fiat Professional a partire da 16.300 euro oltre IVA con incentivi statali e rottamazione Fino al 31 luglio, ti aspettiamo in concessionaria Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti Maggiori info e consumi ed emissioni su fiatprofessional.it Hai sentito? Stosa continua a celebrare i suoi 60 anni con una promozione esclusiva Blocca il prezzo dell'estate e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto a tasso zero La cucina che ti meriti al prezzo che desideri è già pronta Cerca il punto vendita più vicino Trova la promozione su misura per te e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto I sogni si avverano con Stosa Cucine Stosa Cucine, 60 anni di design italiano Premiati e vai su stosa.it Nella storia d'amore di Romeo e Giulietta, la pancia di lei era spesso gonfietta Provava imbarazzo con il suo amato finché la balia le cambiò il fato Enterogermina gonfiore L'integratore ad azione rapida e prolungata contro il gonfiore Enterogermina gonfiore, dal tuo intestino, la tua leggerezza Enterogermina Let's go! Da MediAward è arrivata la Techmania Scopri le migliori offerte su smartphone, notebook e tanto altro Il meglio della tecnologia da portare sempre con te Dall'8 al 18 luglio, Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 giga, tuo a 999 euro Approfitta nei negozi online MediAward Let's go! 198, 199, 200! Ah, ce l'ho fatta! Confermo, oltre 200 negozi in cui fare shopping durante i saldi Ecco perché è il mio centro Dal 6 luglio al centro ti aspettano i saldi Il centro di Arese, a due passi da Milano Navetta dalla stazione centrale di Milano e da quella di Cadorna Info su centroilcentro.it Andrea Bocelli Io non assaggio, non riesco a immedesimarmi Ah, portatele uno stecco Ma chi me l'ha mandata questa? I nuovi gelati cup sono così buoni che provali tutti 500 euro per l'assicurazione auto 500 euro per l'assicurazione auto 500 euro per l'assicurazione auto L'assicurazione auto è così cara che non riesci a pensare ad altro Falla facile! Vai su facile.it e risparmia Confronti più assicurazioni e in tre minuti trovi la più conveniente per te A partire da 131 euro all'anno Facile.it 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 Risparmiare sull'assicurazione auto è facile Prova! Da Per Dormire ci sono i saldi con sconti fino al 65% Interessi zero e prima rata a novembre Scopri il nuovo letto Bahia a 429 euro E il materasso Memory Cloud a 319 euro O letto Bahamas e materasso Memory Active Plus Solo fino al 21 luglio Termini e condizioni su perdormire.com Per Dormire. Design for Wellness Silenzio, facciamo l'appello Minic Map Niviak Map Siku Map Bene, cominciamo la lezione Per imparare i segreti del freddo Gli eschimesi vengono a scuola da noi Climatizzatori DEMA Gli esperti del freddo Parola di eschimese Cifadda 140 anni di esperienza nel fai-da-te Arredo casa, giardino e bricolage Acquista online su cifadda.com Oltre 70.000 prodotti e tante offerte Cifadda Consegna in tutta Italia Cifadda Il brico 100% Sardegna R101 Meteo Ben trovati da Virginia Giacomine Dalla redazione di TGCon 24 Le previsioni meteo per questa domenica Tempo nel complesso stabile e soleggiato su tutta la penisola Solo qualche velatura di passaggio al centro nord E una modesta nuvolosità sulle aree alpine ma con basso rischio di piogge Temperature massime, lieve aumento al nord e in Sardegna Caldo intenso al sud e in Sicilia Con punto e fino a 42 gradi nell'entroterra Per ulteriori dettagli consultate sito e app di Meteo.it Questa è la radio che ti fa stare bene R101 Enjoy the summer Enjoy the music R101 Sugar C'è Zuccar su R101 Il 32 minuti dopo le 20 Da Iachi un buon sabato a tutti Enjoy the weekend Questo sabato sera che ci state raccontando al 331 80 90 101 I vostri messaggi amici che stanno uscendo a cena in questo momento Saluto Silvia e Marco che appunto sono in coda Perché stanno andando a cena a Seravezza tra l'altro Posto che io conosco molto bene è anche meraviglioso Un saluto a tutti gli amici di Seravezza Sentiamo però anche una voce Buonanotte a tutti Alle otto e mezza Io qua c'ho davanti i messaggi di gente che si sta preparando Che ci racconta il sabato sera Bar di qua, pub di là, discoteche di su e di giù E poi ci sono le amiche che si va a dormire Buonanotte alle otto e mezza Ancora un'oretta di macchina però detto Quindi comunque almeno fino alle nove e mezza Si regge Mi piaceva un po' la storia del cavallo Nonostante l'inizio dell'audio Io me lo sia un attimino perso Magari qualcuno mi ragguaglierà 20 e 34 minuti Questo sabato sera che è appena iniziato Come di consueto lo trascorreremo tutto insieme Fino a mezzanotte Con tutta la musica di R101 Girl on Fire Lei è Alicia Keys R101 È la radio che ti fa stare bene Amo la radio perché è musica, è allegria e compagnia Mamma mia ma che musica mette R101 Grazie alla radio perché non sono mai sola Vi amo ragazzi Che radio ascoltiamo noi R101 Memorizza R101 ovunque Soprattutto nel tuo cuore Eden Hart, Joel Corri su R101 Buon sabato sera a tutti E al 331 80 90 101 Ci state raccontando proprio del perché questo deve essere un buon sabato sera Con i messaggi con le voci quindi ne sentiamo una Stasera vado al Milano Marittima con gli amici sulla barca Siamo un po' lì facciamo qualcosina così Qualche canzone con un po' di karaoke Un po' di karaoke sulla barca a Milano Marittima A me piace un sacco il tono del nostro amico perché lui è bello carico per questo sabato Ci piace che siate così 331 80 90 101 per i racconti del sabato sera Tra pochissimo arriva anche la canzone che ti fa stare bene Il numero è sempre quello per raccontarci qual è la vostra Una volta all'ora appunto un brano scelto da voi Canzoni che molto spesso ci fanno tornare un po' indietro nel tempo Ci fanno venire anche un po' di pelle d'occa Nel frattempo Paprika è l'ultimo singolo di Gali Enjoy the music Paprika c'è Gali su R101 44 minuti dopo le 20 nel nostro sabato sera insieme Buon weekend a tutti tra pochissimo Arriva la canzone che ti fa stare bene Quindi lo sapete amici state con noi Dottore tutto il giorno proteggere i bagnanti dalle onde ma non ho protetto la mia pelle dal sole Guardi che scottatura Tranquillo Ci pensa Dottor Max a salvare la tua estate Sconti fino al 50% sui solari dei migliori marchi e tanto altro per la tua estate Fino al 5 agosto nelle farmacie e su DottorMax.it Dottor Max, la salute per tutti Tutto per la salute Buona spesa a chi ha tanti progetti per il weekend Buona spesa Antonella Tra i tanti progetti per il weekend non dimenticarti di andare da MD Fino al 14 luglio ci sono melanzane tonde a 1,49 euro al chilo E due maxi rotoli di carta casa flu a 1,49 euro Ma la buona spesa non finisce qui Inquadra il QR code sul volantino MD e scopri tutti gli sconti MD Buona spesa Italia Pronto a partire? Febalcasa ti porta in vacanza In omaggio un voucher al pitour da 1,000 euro con l'acquisto di una cucina completa Vai su febalcasa.com e corri nello store più vicino Hai tempo fino al 10 settembre Prime Day di Amazon è il 16 e il 17 luglio Con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro Ti sentirai come se avessi appena vinto un premio Wow, non ho nemmeno preparato un discorso Vorrei ringraziare il corriere per la consegna velocissima Gli altri clienti Prime e il mio gatto Qualcuno qui si sente speciale Prime Day è il 16 e il 17 luglio solo per i clienti Amazon Prime Iscriviti oggi stesso su Amazon.it slash Prime Preparati a una grande estate con equivalenza Ogni fragranza è equivalenza È un'emozione, una promessa di avventura Un'esperienza sensoriale unica Ed è equivalenza, abbiamo anche una sorpresa per te Con una spesa minima di 40 euro ti regaliamo una fantastica borsa da spiaggia Scopri il negozio più vicino a te su www.equivalenza.it Passa a Dyson Risparmia 200 euro su V15 Detect Scopri di più su Dyson.it e nei Dyson Store Pagamento a rate senza interessi e reso gratuito Prendo ciò che voglio E salviamo il portafoglio Risparmiare è sempre bello E riempiamolo il carrello Questo fine settimana da Aldi ti aspettano tante offerte Come porchetta arrosto da 100 grammi a soli 2 euro Ricordati di votare Aldi come insegna dell'anno Potresti vincere premi favolosi Infi regolamento su insegnadell'anno.it Aldi Spendi meno Vivi meglio Stanco dello sporco ostinato? Approfitta della grande promozione Chanteclair Fino al 2 settembre acquista due sgrassatori spray Uno te lo rimborsiamo Regolamento completo su premiati con ilmondodelpulito.it Chanteclair, il gallo del pulito Su Paramount Plus, non perderti gli hit show del momento La nuova stagione di Mayor of Kingston con Jeremy Renner Hai la mia attenzione I reality di cui tutti parlano E il nuovo film Mean Girls Benvenute Katie Scopri una montagna di intrattenimento Tutta in streaming su Paramount Plus No! Dottore, dottore si è rotto Non si preoccupi Ha chiamato Doctor Glass, dottore giusto Ho notato un danno al parabrizzo Ho chiamato il numero verde Mi hanno fissato un appuntamento Nel centro Doctor Glass più vicino a me Sono stati velocissimi E poi se attiva una polizia a cristalli Con una compagnia convenzionata L'intervento è gratuito Consulta la tua polizia per eventuali limitazioni Chiama il numero verde 810 1010 O vai su drglass.com Doctor Glass, la cura per il tuo parabrizzo Che spettacolo, l'estate al cinema Dal 14 giugno al 14 settembre Il biglietto del cinema per i film italiani ed europei Costa solo 3,50 euro Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura Tutti i dettagli su cinemarevolution.it Ma sì che non vedo l'ora di andare in vacanza E sai cos'altro aspettavo? Gli occhiali da sole in saldo su Zalando I costumi Ho già detto i saldi estivi su Zalando Vestiti, creme solari, sandali E migliaia di look che sconto fino al 60% Solo su Zalando Sustenium presenta Le sfide di Federica Pellegrini Ok Fede, devi dire in tre secondi Questo scioglilingua Pronti? Via Se sostieni che Sustenium ti sostiene Sosteniti con Sustenium Con Sustenium Plus è la sua formula specifica E l'energia fisica e mentale Per vincere le sfide di ogni giorno Sustenium Plus Dai energia alla tua energia Le venti e quarantanove minuti Sabato sera c'è la canzone che ti fa stare bene Il nostro primo appuntamento insieme Di tanti ovviamente perché siamo qua fino a mezzanotte E la canzone che ti fa stare bene Arriva circa al quarantacinquesimo minuto di ogni ora Per raccontarci la vostra Sempre 331 8090 101 Messaggi ma soprattutto voce Allora ascoltiamo insieme la richiesta di quest'ora Ciao Barbara da Spotorno La canzone che oggi mi farebbe stare bene Sì? È Moving On dei Novecento Ciao a tutti Moving On Sono i Novecento Su R101 alle venti e cinquantatré Per la canzone che ti fa stare bene L'anno era il millenovecentottantaquattro Questo tra l'altro è il primo singolo Dei Novecento Con appunto questo nome Perché negli anni avevano utilizzato parecchi pseudonimi Gruppo composto da Pino Lino e Rossana Nicolosi E appunto negli anni avevano usato parecchi pseudonimi E alla fine con il nome che è diventato quello ufficiale Questo Moving On primo singolo di un successo veramente spaventoso Centomila le copie vendute solo in Italia Poi si sono affermati con brani come questo Che ci piace riascoltare Riassaporare come sempre Grazie anche alle vostre richieste 331 8090 101 Perché la canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima Tra poco meno di un'ora Gli appuntamenti insieme questa sera saranno tanti Se volete prendere spunto www.r101.it Lì trovate una sezione che si chiama Le 101 canzoni che vi fanno stare bene 101 brani, 101 ritornelli da ascoltare Accanto c'è scritto bello chiaro Titolo della canzone e autore Quindi è impossibile sbagliare Poi mi raccomando quando avete trovato quella che volevate Raccontatecelo Perché ancora non leggiamo nel pensiero Nel frattempo For You Liam Payne rita ora Pronto Buongiorno Sono alla ricerca di un dentista specializzato in pedodonzia e ortodonzia Che utilizzi un approccio innovativo mediante l'uso di tecniche moderne Che offre una moltitudine di servizi ad hoc per ogni singolo soggetto E che crei un legame indissolubile con il cliente facendolo sentire a proprio agio Mi scusi, ha sbagliato numero Lo studio medico dentistico Dottor Piacentini invece ti offre tutto questo e tanto altro Pretendi il meglio e chiamaci allo 0363 910196 Per fissare un appuntamento presso le nostre sedi di Romano di Lombardia e cividate al piano Ti aspettiamo 1, 2, 3 Santini, cosa sta facendo? 4, 5 Santini, su, si sposti, mi faccia vedere No, non posso, è imperdibile Oltre 150.000 prodotti Una vasta scelta tra i migliori marchi sul mercato Il sito semplice da usare, comodo anche su mobile Promozioni su misura, proposte imparagonabili, aggiornamenti, raccolta punti Non posso smettere Tutto, voglio comprare tutto Santini, su, mi faccia vedere Voglio usarlo anch'io Lavorosicuro.shop di Fingro La grande ferramenta ti aspetta anche a Cividate al Piano, Bergamo, via Sentieri 44 Radio Pianeta Big Fans Gli artisti, gli amici Un saluto a tutti gli amici di Radio Pianeta da Valerio Scano Cruel Summer, Taylor Swift su R101 Taylor Swift che stasera è in concerto live a San Siro qua a Milano Cruel Summer è la canzone con cui ha aperto la serata il suo live Vi chiederete ma perché Iaki lo sai che sei in onda? Perché ho un'amica che è lì presente Io non so nemmeno come faccio ad avere campo Dato che ci sono 65.000 persone lì in mezzo Però che mi sto dando aggiornamenti sul concerto Come se io fossi una Swifties Sì, quella roba lì mancata Però va bene, sappiamo tutti che l'amore dei fan per Taylor Swift Quello è infinito Un sacco di soldi so che ha portato alla città di Milano Perché lei ovunque va comunque porta un sacco di soldi Leggevo anche di persone che vivono in America Che hanno voluto comprare il biglietto Però per le date europee Perché in America i prezzi vanno a dei livelli folli Tanto che pagando più o meno la stessa cifra Riescono anche a farsi la vacanza in Europa Prendendo il concerto in Europa Questo è pazzesco Io martedì ero a Avrilavigna e San Forty One In zona San Siro C'era già gente accampata fuori dallo stadio Per Taylor Swift Qualcosa di veramente pazzesco E che io non riuscirò mai a concepire Ma vabbè Stiamo giocando al dizionario della generazione Z La parola a cui trovare A cui state trovando la definizione stasera È chillare È chilling Chillando tutto quello che sta attorno Ovviamente a questo verbo molto italianizzato Sentiamo Ma qualcuno dobbia mettere all'agonia Quindi sentiamo una risposta sbagliata Cosa significa chillare? Può essere sta ignorando No non sta ignorando Non sta ignorando Allora possiamo risentire anche il Tana Così riusciamo a contestualizzare bene la parola? Voglio fare come te che sei uno sciallo Gli ho detto chiama dopo sto chillando Voglio fare come te che sei uno sciallo Gli ho detto chiama dopo sto chillando Quindi cosa sta facendo? Qualcuno l'abbiamo già ascoltato in realtà Che ha dato la risposta corretta Tra pochissimo infatti Arriveranno anche le soluzioni Però continuate Continuate che magari Riusciamo ad avere proprio quella perfetta Quella che va a chiudere proprio il cerchio Come sempre 331 80 90 101 Messaggi e voci Enjoy the music Francesco Gabbani Il suo ultimo singolo Frutta malinconia 18 minuti dopo le 21 Siete su R101 Da Iachi Un buon sabato Tra pochissimo ascoltiamo la definizione Di chillare Quindi mi raccomando State con noi Nome G di Dorigo Professione Porta Segni particolari Testata in laboratorio Porte G di Dorigo Belle italiane Testate per la qualità Per lo stile Non ce n'era bisogno Mal di testa? Mal di schiena? Puoi provare la carta Speeditol Grazie a ibuprofene con arginina Si assorbe più rapidamente Del solo ibuprofene Speeditol Azione rapida Contro dolore e infiammazione Da Zambon In farmacia È un medicinale a base di ibuprofene Sali di arginina che può avere effetti indesiderati anche gravi Leggere attentamente il fondo illustrativo Corri da Troni Dal 27 giugno al 24 luglio Prendi tre e paghi due Acquista tre dei tantissimi prodotti in promozione Il meno caro è in regalo Approfittane subito Regolamento nei punti vendita Troni Non ci sono paragoni Hai visto la nuova Fuma Hybrid? Nuova nuova? Sì perché nuova fuori e nuova dentro Ha un frontale totalmente ridisegnato E fari con tecnologia full LED E dentro? Dentro è più connessa e tecnologica Grazie al modem 5G Al sistema infotainment sync 4 E al touchscreen da 12 pollici E gli incentivi? Con l'offerta di lancio su nuova Fuma Hybrid Hai fino a 6.000 euro di incentivi Ford e statali Scoprila su Ford.it Hai sentito? Stosa continua a celebrare i suoi 60 anni Con una promozione esclusiva Blocca il prezzo dell'estate E scegli la tua cucina Stosa Entro il 31 agosto a tasso zero La cucina che ti meriti Al prezzo che desideri È già pronta Cerca il punto vendita più vicino Trova la promozione su misura per te E scegli la tua cucina Stosa Entro il 31 agosto I sogni si avverano con Stosa Cucine Stosa Cucine 60 anni di design italiano Premiati e vai su Stosa.it Bruno! Ale! Che c'è? Ho montato il wifi da te! Ma l'hai montato da te? Sì ma puoi montarlo anche da te! Ed è velocissimo! Dove non arriva la fibra C'è l'FWA 5G di Vodafone Con il wifi da te Lo installi da te ovunque Quest'estate a 21,90 euro al mese Vieni in negozio Promozione valida fino al 31 luglio Salvo proroghe Per ulteriori info Costi e limitazioni tecnologiche Vai su Vodafone.it Avevi solcato gli oceani Oltre l'orizzonte Sfidando mostri marini Mare in burrasca La tua pala colpì il coperchio Di un forziere pieno di tesori E tutto Mentre preparavi le lasagne Audible Più ascolti Più immagini Scopri migliaia di audiolibri Podcast e avventure straordinarie Su audible.it Lo sport lo insegna Agilità Versatilità Suzuki Compatta Ibrida E anche 4x4 Tecnologia da incentivi Fino a 14.500 euro di vantaggi Info su Suzuki.it Suzuki E' ora di cambiare la cucina Aran Cucine E' la scelta migliore Per la cura dei dettagli Rispetto per l'ambiente E l'innovazione E dentro il 31 luglio Acquistando una cucina Aran Con elettrodomestici Hotpoint Avrai piano di lavoro Piano cottura D'induzione Lavastoviglie A solo un euro Pagando incomode rate A tasso zero vero Scopri la promo Nei negozi Aran Cucine O su arancucine.it Maestro In quest'ora così buia Come vederci chiaro? Che ola è? Le due di notte In quest'ora buia E' di tutta la farmacia all'angolo Farmacia? Chiedi contatta Ci vedrai chiaro Fidati del tuo farmacista Con le lenti giornaliere Contatta per la miopia Vedere bene è facile a qualsiasi ora Contatta Benessere degli occhi In farmacia E' pala farmacia Para E che ho detto? Palla, pala E' un dispositivo medico CE0123 Leggere attentamente le avvertenze Out in sun Samsung presenta Il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 6 Scopri tutta la potenza Di Galaxy AI Acquistalo Su Samsung.it Entro il 18 agosto 2024 Può essere tuo A partire da 399 euro Prezzo riferito Alla valutazione Del tuo Galaxy Z Flip 5 Da 512 giga usato E 100 euro Di sconto a carrello Inoltre Entro il 23 luglio 2024 Scopri altri vantaggi Esclusivi per te Termini, condizioni e limitazioni Su www.samsung.it Slash promozioni Lasciati conquistare dalla raffinatezza di DS Automobile Scegli DS7 Plug-in Hybrid E porta la tua esperienza di guida a un nuovo livello di comfort A luglio DS7 Plug-in Hybrid E' allo stesso prezzo del diesel Con finanziamento Style Drive Rottamazione e incentivi statali Ti aspettiamo in tutti i DS Store Per info su rottamazione e incentivi statali Verificare i siti delle autorità competenti Info i consumi su DS Automobile.it Tra palme e cammelli in quel dell'Egitto La grande Cleopatra emanava un editto Per ordinanza basta gonfior di panza Poi l'intuizione Entero Germina Gonfiore L'integratore ad azione rapida e prolungata contro il gonfiore Entero Germina Gonfiore Dal tuo intestino, la tua leggerezza Entero Germina Questa 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 E' la radio che ti fa stare bene R101 Enjoy the summer Enjoy the music R101 The Calling Wherever you will go Nel sabato sera di R101 Buona serata a tutti i Dayaki Stiamo giocando il dizionario Della generazione Z Stiamo cercando la definizione allo slang Chilling Chillare Chillando Cosa significa da mai? Intanto il computer ha iniziato a fare il concerto Ascoltiamo prima l'estratto Il buon Tana Che ci ricorda un attimino il contesto Chi ama dopo sto chillando Cosa significa questo chillando? Sentiamo Per me sta chillando Voglio che sta mangiando del chili Bello il sapone No, non sta mangiando del chili Sono Flavio Ciao Flavio Sto chillando vuol dire sto calmo No Si può chillare in tantissimi posti Sicuramente si può chillare a casa Ma non è un'attività esclusiva Ai tempi mei si diceva Tu sei sciallo E io sto ciullando Sti ragazzi oggi Ma che terminologia strana Ciao a tutti Buona serata Buona serata Mi piace Questo è un attimino un momento polemica Vai Carrelage Di invece chi ha preso piena la definizione Chillare dovrebbe essere la versione italiana Tipico E quindi stare in relax E godersi il momento Senza fondamentalmente fare nulla di clamoroso Ciao sono Claudio da Roma Chillando significa rilassarsi Chillando significa che è in tranquillità Ciao Iachi Allora Chillando significa rilassarsi Dall'inglese Bravissimi tutti Mi citano anche proprio E' questo che è l'etimologia Mi citano proprio la provenienza anche della parola Questo è meraviglioso Tutto giusto Perché appunto Chillare significa rilassarsi Appunto il nostro amico giovanissimo Anche aveva detto che Significa stare a casa Ci si può rilassare Si può chillare a casa Ma non è diciamo Un'attività esclusiva Di quel posto Siete stati in tantissimi A trovare la definizione corretta Ovviamente per limiti di tempo Abbiamo potuto mandarne solo alcuni Però veramente bravi tutti Su R101 Ci sono Calvin Harris e Rihanna R101 E' la radio che ti fa stare bene Quello che cerco nella radio Per me è la compagnia Mi treguido Mi trovo a casa Mi trovo a lavoro E voi siete i migliori in questo Radio R101 E' la meglio Gente questa sì che è musica Vi ho messo in stereo Radio in camera da letto Dove sto lavando i vetri E televisione In cucina e in sala Meravigliosi Memorizza R101 ovunque Soprattutto nel tuo cuore I Ain't Worried War Republic 36 minuti dopo le 21 Un buon sabato sera a tutti Questo è l'enjoy the weekend Con me iacchi fino a mezzanotte Con tanti appuntamenti Con la canzone che ti fa stare bene Canzoni storiche Iconiche Che ci raccontate voi Con i messaggi Con le voci A tutte le ore Al 331 80 90 101 Una decina di minuti Arriva l'appuntamento Nel frattempo Su R101 Ci sono anche Gli ultimi singoli Sempre presenti Sempre aggiornati Questo si chiama altrove Lui è ultimo Enjoy the music R101 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 Che relax Senti i gabbiani E il suolo del mare Ma cosa dici? Se non siamo ancora partiti È vero Ma con il nuovo salotto da giardino Di Leroy Merlin Mi sembra di essere già in vacanza Solo da Leroy Merlin Fino al 29 luglio C'è un'estate di super offerte In tutti i negozi Online e al telefono Arredo giardino Climatizzatori Vernici Finestre E tanti altri prodotti Scontati fino al 50% Offerta soggetta a limitazioni Scopri i dettagli in negozio Sulleroymerlin.it Leroy Merlin Voglia di fare casa Marco Adora il pesto alla genovese Martina Il pesto alla calabrese E il piccolo Luca Quello pomodori secchi e formaggio Ah ma in casa mia comando io E stasera si mangia il pesto Alla genovese senza aglio polli Con basilico italiano Lavorato fresco Entro 24 ore Troppo buono Pesti polli Provali tutti Partecipa al concorso E vinci una cena stellata Instant Win con super premio Dal 3 giugno al 3 novembre 2024 Montepremi 6409,35 euro Ida esclusa Regolamento su polli.it Samsung presenta Il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 6 Scopri tutta la potenza Di Galaxy AI Acquista il modello da 256 giga Con S-Change da MediaWorld Può essere tuo ad esempio A 399 euro Se restituisci il tuo Galaxy Z Flip 5 512 giga usato In condizioni ottimali Inoltre entro il 23 luglio Una cover in omaggio per te Operazioni a premi Valida dal 10 luglio al 23 luglio 2024 Scopri di più nei negozi MediaWorld E su MediaWorld.it Ma si che non vedo l'ora di andare in vacanza E sai cos'altro aspettavo? Gli occhiali da sole in saldo su Zalando I costumi Ho già detto i saldi estivi su Zalando? Vestiti, creme solari Sandali e migliaia di look Che sconto fino al 60% Solo su Zalando Preparati a una grande estate Con Equivalenza Ogni fragranza Equivalenza E un'emozione Una promessa di avventura Un'esperienza sensoriale Unica Ed Equivalenza Abbiamo anche una sorpresa per te Con una spesa minima di 40 euro Ti regaliamo una fantastica borsa da spiaggia Scopri il negozio più vicino a te Su www.equivalenza.it Silenzio Facciamo l'appello Minic Mop Niviak Mop Siku Mop Bene, cominciamo la lezione Per imparare i segreti del freddo Gli Eschimesi vengono a scuola da noi Climatizzatori IDEMA Gli esperti del freddo Parola di Eschimese Lasciati sorprendere dal lusso sostenibile Guida Volvo XC60 Ibrida Plug-in Con gli esclusivi incentivi Volvo Per clienti privati Scopri il SUV con tecnologie avanzate Di sicurezza e di connettività E basse emissioni Perfetto per i tuoi spostamenti quotidiani In modalità 100% elettrica E per i lunghi viaggi in libertà Volvo XC60 Ibrida Plug-in Con incentivi Volvo La mobilità sostenibile Ti sorprenderà Scopri di più su volvocars.it Dove c'è l'igria C'è San Crispino San Crispino Il nostro vino Tutti i giorni Sulla nostra tavola San Crispino Il nostro vino Bevete responsabilmente? Da per dormire ci sono i saldi Con sconti fino al 65% Interessi zero e prima rata a novembre Scopri il nuovo Letto Bahia A 429 euro E il Materasso Memory Cloud A 319 euro O Letto Bahamas E Materasso Memory Active Plus Solo fino al 21 luglio Termini e condizioni su perdormire.com Per dormire Design for wellness Vecchio, superato, inefficiente Dice a me No, al tuo veicolo commerciale Rinnovalo con i Ford Pro Days Nuovo Ford Transit Courier A 15.450 euro Iva esclusa in pronta consegna Grazie agli incentivi statali Ma fretta, ti stanno per terminare Marte chiama Terra Veniamo in pace Abbiamo fatto migliaia di anni luce E ora ci fanno male i piedi Consegnateci le vostre scarpe Facile Con i saldi pittarosso Fino al 50% Ci mettiamo nelle scarpe di tutti Anche quelle spaziali È ora di cambiare la cucina Aran Cucine È la scelta migliore Per la cura dei dettagli Il rispetto per l'ambiente E l'innovazione E dentro il 31 luglio Acquistando una cucina Aran Con elettrodomestici Hotpoint Avrai piano di lavoro Piano cottura D'induzione e lavastoviglie A solo un euro Pagando in comode rate A tasso zero vero Scopri la promo nei negozi Aran Cucine O su arancucine.it 21 e 47 Puntuale la canzone che ti fa stare bene Il nostro marchio di fabbrica su R101 Ogni ora un brano che scegliete voi Lo fate con i messaggi Al 331 80 90 101 Molto spesso sono canzoni Che ci riportano un po' indietro nel tempo Che ci fanno stare bene Che sono iconiche Comunque che hanno segnato un periodo Anche questo brano è il caso di dirlo È veramente una canzone Che ci farà stare in tanti bene La richiesta di Arianna Ciao Iacchi La canzone che mi fa stare bene È The Look dei rock set Dall'album Look Sharp The Look sono i rock set Che ci riportano il 1989 Per la canzone che ti fa stare bene Il nostro marchio di fabbrica Qui su R101 Questi brani che hanno segnato Anche comunque la storia Per qualche motivo In particolare The Look Ha il grandissimo merito Di aver fatto conoscere il duo Internazionalmente In giro per il mondo Già molto forti ovviamente In Svezia The Look poi ha spopolato Anche oltreoceana In America è rimasta il primo posto Addirittura per qualche settimana E quindi è sempre un piacere Da ritrovare E dobbiamo ringraziare ovviamente La nostra amica Arianna Perché è la canzone che ti fa stare bene Sono appunto tutti i brani Che scegliete voi Ogni ora Ogni minuto Di ogni ora Di ogni giorno Al 331 80 90 101 Se magari avete già scritto Avete mandato il vostro messaggio vocale Non demordete Perseverate Perché appunto Magari il prossimo appuntamento Sarà la canzone Che farà stare voi bene E sicuramente poi Tanti altri Nel frattempo Dato che fino a poco fa Parlavamo di chillare Di rilassarsi Il sabato sera Ce lo dice anche Bruno Mars Questo è The Lazy Song Una buona serata a tutti amici Buon weekend Sabato sera 13 di luglio Sono le 22 e due minuti Siete su R101 Questo è l'Enjoy the weekend Per tutta la stagione appunto Estiva Enjoy the summer Con Miyaki Dalle 20 a mezzanotte Ad accompagnarvi Dal venerdì Alla domenica Buon viaggio Agli amici in macchina Al 331 80 90 101 Le voci Per partecipare alla diretta Raccontateci come sta andando Il vostro sabato sera Nel frattempo Happy ending C'è mica Enjoy the summer Enjoy the music R101 Enjoy the summer Enjoy the music R101 Take me home Jess Glyn Su R101 Canzone che va a fare Anche un pochino come motto Per tanti Di quest'ora insieme 22 e 9 minuti Questo è il sabato sera Soprattutto un orario Che sappiamo essere Molto divisivo Perché Vi leggiamo E vi ascoltiamo sempre Con i vostri messaggi Al 331 80 90 101 Con i racconti appunto Del vostro sabato sera Ed è sempre strano Questo orario Quello che va dalle 22 Fino poi in realtà Alle 11 Anche inoltrate Perché tanti amici Stanno Già pensando Di magari avviarsi Verso casa Tanti sono già avviati Verso casa Altri invece che si stanno Preparando addirittura Per uscire Perché la serata Perché la notte è giovane E si può fare tardi Perché il sabato Lo sappiamo Per la maggior parte Di coloro Che ci stanno ascoltando È una giornata In cui ci si può svegliare Un pochino più con calma Perché magari Non è dettato Dal ritmo della sveglia Il risveglio appunto Del sabato E si può fare un po' più tardi Perché in teoria La sveglia non suona Nemmeno domenica mattina Poi ovvio Noi mandiamo sempre un saluto Un abbraccione A quelli che ci piace chiamare Gli staccanovisti Del weekend Magari tanti Non sono troppo Staccanovisti Per scelta Quanto per appunto Per dovere Però è sempre bello Sapere di avere Tanti amici e amiche Che ascoltano R101 Per passare al meglio Il loro sabato sera Anche se stanno lavorando Per passarlo in modo Più leggero Più interattivo Anche perché appunto Ce lo raccontate Con i vostri messaggi E quindi anche Con la compagnia giusta Con la musica giusta Con la colonna sonora Giusta Tutto passa In modo migliore Grazie Tancredi Grazie 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 E dal 2024 Tre importanti novità Siamo centro autorizzato Sport Equip Nuova officina autorizzata Jeep Centro revisione veicoli GDP Service Alfa Romeo Fiat Fiat Professional Lancia Jeep Noleggio a lungo termine E su misura per te Assistenza tecnica Con consegna dell'auto In un'ora Allestimenti speciali Per diversamente abili Con vendita Assistenza tecnica E amministrativa Centro revisioni auto GDP Service Bari Via Camillo Rosalba 50 A Telefono 080 556 0301 GDP Service Il nostro viaggio Continua 20 e 46 minuti amici Giovedì sera 18 di luglio Siete su R101 Questo è il nostro primo appuntamento Con la canzone che ti fa stare bene Nelle stories Con me e Iachi Ogni ora Un brano scelto da voi 331 80 90 101 Con i messaggi Con le voci Per farci tornare Indietro nel tempo E raccontarci Di quelle canzoni speciali Che avete nel cuore Ascoltiamo insieme La richiesta di quest'ora Fabrizio da Milano Per la canzone Che mi fa stare bene Vorrei ascoltare un artista Che raramente Sento passare Sulle vostre frequenze Phil Collins Another Day in Paradise Canzone che ti fa stare bene Una canzone che avrà fatto stare bene Non solo il buon Fabri Ma tanti amici E amiche all'ascolto 1989 Uno dei più grandi successi Poi della carriera Di Phil Collins Oltre ovviamente A livello di classifiche E commerciali Anche comunque Una di quelle canzoni Che è rimasta Nel cuore di tanti Canzone che ha vinto La miglior registrazione Ai Grammy Award Del 1990 E quindi sicuramente Una canzone Che ci ha fatto stare bene Che è un piacere Ritrovare Come gran parte Della discografia Di Phil Collins E come ovviamente Ogni brano Che ci raccontate voi Al 331 80 90 101 Perché ogni ora C'è una canzone Scelta da voi Arriva verso Il 45esimo minuto Quella di quest'ora L'abbiamo appena ascoltata Ritorna puntualissima Tra poco meno di un'ora Gli appuntamenti Con la canzone Che ti fa stare bene Saranno ancora parecchie Durante il nostro Giovedì sera insieme 331 80 90 101 Per raccontarci la vostra Con i messaggi E con le voci Per farci tornare Indietro nel tempo O magari appunto Che è stata la motivazione Del nostro Buon Fabri Quelle canzoni Che noi amiamo Ma che per un motivo O per l'altro Il radio Non si sentono più Così spesso E quindi c'è bisogno Di riascoltarle Di ritrovarle Questo spazio È fatto apposta Per questo motivo Se volete Prendere spunto Sul nostro sito R101.it C'è una lista Che si chiama appunto Le 101 canzoni Che vi fanno stare bene 101 ritornelli Da ascoltare Accanto c'è scritto Il titolo del brano E l'autore della canzone Quindi non si può sbagliare E poi mi raccomando Raccontatecele In un messaggio Perché ancora Non riusciamo A leggere nel pensiero E poi si sa Che comunque Quando c'è la canzone Che ti fa stare bene E ne fa stare bene Chi la richiede Ma anche tanti Che hanno vissuto Un po' Quel periodo Nel frattempo Ovviamente La musica Non si ferma Su R101 Splash Sono Colapesce E Di Martino Le stories di R101 In questo giovedì In questo giovedì sera Il 18 di luglio 20 e 59 minuti Pochi secondi Alle 21 Sempre insieme In questa serata Con me e Iachi Fino a mezzanotte Ma ciao Ma ne sono accorta Che sei tan credi Ciao Grazie Grazie Cisi Sempre un piacere Averti pronto E lesto 331 80 90 101 Per partecipare alla diretta Subito Andreas Johnson Glorious 1 2 3 Santini Cosa sta facendo? 4 5 Santini Su Si sposti Mi faccia vedere No Non posso È imperdibile Oltre 150.000 prodotti Una vasta scelta Tra i migliori marchi Sul mercato Il sito Semplice da usare Comodo Anche su mobile Promozioni su misura Proposte imparagonabili Aggiornamenti Raccolta punti Non posso smettere Tutto Voglio comprare tutto Santini Su Mi faccia vedere Voglio usarlo anch'io Lavorosicuro.shop Di Fingro La grande ferramenta Ti aspetta anche A Cividate al Piano Bergamo Via Sentieri 44 Radio Pianeta Big Fans Gli artisti Gli amici Ciao da Francesco Gambani A tutti gli amici di Radio Pianeta Un bacione Radio Pianeta Presenta Coming Soon Le novità al cinema A luglio Alla NASA serve uno specialista in marketing L'altra storia dell'impresa Dobbiamo girare una versione di riserva dell'allunaggio Che ha cambiato il mondo Vuole dire un falso? Scarlett Johansson Channing Tatum Woody Harlandson Ogni cosa che abbiamo sacrificato Non sarà servita a niente Fly Me to the Moon Le due facce della luna Dall'11 luglio al cinema Siamo dentro al tornado? No, è dietro di noi Si sta avvicinando! Quest'estate Siamo alle prese con la tempesta del secolo Vivi il lato più oscuro della natura Hai mai visto una cosa simile? Sono gemelli! Si fondono No! Attenzione! Più veloce, più veloce! Tu è stersa dal 17 luglio al cinema Avete ascoltato? Coming Soon Radio Pianeta Sempre con te Sono le 5 Tre decadi hanno segnato la storia della musica dance Gli anni 70, 80 e 90 E noi? E noi ve li facciamo ascoltare un'ora alla settimana Grazie ad Angelo Pedroni DJ La domenica alle 21 c'è Music Dance Story Un racconto lungo 30 anni In collaborazione con Victoria Bardi, Mornico e il serio Se parliamo di sicurezza... No, non se ne può più, ti prego! Ma Federica, non si può interrompere La faccio io Vuoi star sicuro? Non perdere tempo e chiama Spiderline Vita Fatto, li ho convinti Federica! Ma è vero, non c'è bisogno... Perché tutti si affidano a Spider Visitaci su www.linevita.it O chiamalo 0363 93 99 47 1, 2, 3... Santini, cosa sta facendo? 4, 5... Santini, su, si sposti, mi faccia vedere No, non posso! È imperdibile! Oltre 150.000 prodotti Una vasta scelta tra i migliori marchi sul mercato Il sito semplice da usare Comodo anche su mobile Promozioni su misura Proposte imparagonabili Aggiornamenti Raccolta punti Non posso smettere! Tutto! Voglio comprare tutto! Santini Su, mi faccia vedere Voglio usarlo anch'io Lavorosicuro.shop di Fingroo La grande ferramenta ti aspetta anche a Cividate al Piano Bergamo Via Sentieri 44 Radio Pianeta Big Fans Gli artisti, gli amici Un saluto a tutti gli amici di Radio Pianeta Da Giovanni Caccamo Radio Norba News Ben trovati dalla redazione di Radio Norba Erano sposati Avevano figli Due vigili del fuoco Eroi Morti ieri Per spegnere un incendio A Novasiri Nel materano Nicola Allassalata E Giuseppe Martino 45 anni Hanno salvato una famiglia Imprigionata dall'incendio Oggi il ministro Dell'interno Piantedosi È stato a Matera Da dove ha lanciato Un piano di prevenzione Che parta Dalla Basilicata Sentiamolo Biden deve seriamente Riconsiderare la sua candidatura La strada verso la vittoria Si è ristretta Così l'ex presidente Degli Stati Uniti Barack Obama Secondo quanto Riporta il Washington Post Intanto Biden Positivo al Covid-19 Ha sintomi lievi Ma resta isolato Ritrovati i resti Di Francesca Deida La 42enne Scomparsa a maggio Da San Sperate Nel sud della Sardegna Erano nei pressi Di un ponte romano Vicino alla vecchia Statale 125 Orientale Sarda In località San Priamo Domani sarà conferito L'incarico al medico legale Per l'autopsia Tragedia Marcon Venezia Una bimba Di un anno È morta oggi Dopo essere rimasta Chiuse in auto Sotto il sole Per alcune ore La piccola Dimenticata dal padre In macchina In un parcheggio Quando si è reso conto Della tragedia Non c'era più nulla da fare Queste Le Verknews Di TGcom 24 Il segnale orario È presentato da Rosso tono Questo è l'unico colore Della spesa italiana Rosso tono Giovedì 18 luglio Sono le 19 Benvenuti su Radio Norba La radio italiana più ascoltata dai cinesi Con Rocco Pietrantonio Alessia Marti E con Fiorano State insieme a noi Per l'ultima ora Di questo Giovedì 18 luglio Radio Norba La radio Radio Norba La situazione su strade E autostrade Sulla A12 Genova Rosignano Si sono formati 9 km di coda A causa di un incidente Tra Massa In Versilia In direzione Rosignano Sulla A32 Torino Bardonecchia Un chilometro di coda Per traffico intenso Arrivo lì Rosta In direzione Bardonecchia Sulla 1 Milano Bologna Code per un veicolo In panne Tra Reggio Emilia E Terre di Canossa Campegine Viaggiando in direzione Milano Sulla A14 Adriatica Code per lavori Tra Roseto degli Abruzzi E Pescara Nord Città Sant'Angelo In direzione Pescara Si segnala un incidente Sulla A16 Napoli Canosa Tra Benevento Raccordo di Benevento E Grotta Minarda In direzione Canosa Un incidente anche sulla 1 Milano Bologna Tra Fidenza E il Bivio per la A15 In direzione Bologna Sulla Statale 106 Ionica Invece si procede a Rilento Anche in questo caso Per un incidente A Copanello Viaggiando in direzione Reggio Calabria Per il momento è tutto Vi raccomandiamo La massima prudenza Le notizie di viabilità Sono realizzate in collaborazione Con Anas Lo sai che come sempre Siamo in coda Tutti quanti In onda con i fillet Siamo tutti i trafficanti I trafficanti I trafficanti I trafficanti Di R101 Una buona serata a tutti voi Amici trafficanti di R101 Da parte dei fillet Pedro K E Dani Siamo in diretta fino alle 20 Ed è tempo di giocare assieme Quindi chiedo al nostro K Di girare la nostra ruota Io questa mano vorrei che oggi Girasse bene Perché vorrei che portasse fortuna Ai nostri trafficanti Che magari li faccia vincere Lo spero tanto Sentiamo a cosa si gioca Dai È la quarta volta che ti spalmo la crema Faccio una pausa da IP Nessuna pausa ti fa ripartire Come una pausa da IP Scarica l'app Stazioni IP E scopri tutti i vantaggi IP Tutta l'energia di una pausa Radio Nord È arrivata il reparto Pasta fresca Maffei Anna hai sentito? Eh sì C'è la mia pasta fresca preferita Quella con il fiocco rosso Anche tu pasta fresca Maffei Quella con il fiocco rosso Io ne faccio sempre una gran scorta Pasta fresca Maffei La mangi E sorridi di piacere Maffei La pasta fresca Col fiocco rosso Vuoi rinnovare il tuo arredamento Con stile, qualità e convenienza È giunto il momento Degli scontissimi Nuova Arredo Approfitta di prezzi mai visti Sul living, cucina e zona notte Ma solo per pochi giorni Per rinnova esposizione Tante proposte d'arredo Scontate fino al 60% I nostri consulenti studieranno con te Le migliori soluzioni per i tuoi spazi È sempre il momento giusto Per venire da Nuova Arredo Ti aspettiamo nei nostri punti vendita O su Nuova Arredo.it Nuova Arredo Da noi Ti senti a casa Sogni della Croazia Tuffati nell'estate Con Jadro Linia Compagnia di navigazione croata La linea traghetto collega Bari e Dubrovnik con Dalmazia La nave sulla quale potrai godere Della gastronomia croata E viaggiare in relax Fino a 10 partenze a settimana In alta stagione Acquista i biglietti su Jadro Linia.hr E parti verso la Croazia Con stile Un cane non se ne fa niente Di macchine costose Case grandi O vestiti firmati Di quante persone si può dire lo stesso Quante persone possono farti sentire straordinario Vincent Il pet food Che rende tutto straordinario Hai sentito? Stosa continua a celebrare i suoi 60 anni Con una promozione esclusiva Blocca il prezzo dell'estate E scegli la tua cucina Stosa Entro il 31 agosto a tasso zero La cucina che ti meriti Al prezzo che desideri È già pronta Cerca il punto vendita più vicino Trova la promozione su misura per te E scegli la tua cucina Stosa Entro il 31 agosto I sogni si avverano con Stosa Cucine Stosa Cucine 60 anni di design italiano Premiati E vai su stosa.it Non prendi sonno E ti svegli di continuo Armonia rilascio controllato Con melatonina Lavora nel buio Favorendo l'addormentamento Il buon sonno È armonia Da Giuliani Gli integratori alimentari Non sono sostituti Di una dieta equilibrata E di uno stile di vita sano Vivi l'estate a Palla Da McDonald's Sono arrivati Dei palloni imperdibili Acquista un Happy Meal O McMenu Large E con un contributo Di 2,60 euro Puoi averne subito uno Operazione a premi Con contributo Prorogata fino al 18 luglio Non valida Con consegna a domicilio Regolamento Su McDonald's.it Cifadda Fresca passione Vaschetta da un chilo In gusti assortiti Ha solo 1,99 euro Vieni anche tu Da di più Samsung presenta Il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 6 Scopri tutta la potenza Di Galaxy AI Acquista il modello Da 256 giga Con Exchange Da Media World Può essere tuo Ad esempio A 399 euro Se restituisci Il tuo Galaxy Z Flip 5 512 giga usato In condizioni ottimali Inoltre entro il 23 luglio Una cover in omaggio per te Operazione a premi Valida dal 10 luglio Al 23 luglio 2024 Scopri di più Nei negozi Media World E su Media World.it Virgo Cosmetics È bellezza e tentazione Per voi Che avete una personalità Audace Sicura di sé E sfrontatamente unica Su Virgo Cosmetics Punto com Potrete lasciarvi Incontare Da una linea completa Di make up Che vi farà sentire Unici e straordinari Virgo Cosmetics Il lato affascinante Del peccato originale Immersa nel sonno O nell'acqua Mi rigenero Intra in modalità Dorelan Approfitta dei saldi estivi Fino al 50% In negozio e online Fino al 4 agosto Dorelan Dormire bene Vivere meglio Marco Adora il pesto Alla genovese Martina Il pesto Alla calabrese E il piccolo Luca Quello pomodori secchi E formaggio Ah ma in casa mia Comando io E stasera Si mangia il pesto Alla genovese Senz'aglio Polly Con basilico italiano Lavorato fresco Entro 24 ore Troppo buono Pesti Polly Provali tutti Partecipa al concorso E vinci una cena stellata Instant win con super premio Dal 3 giugno Al 3 novembre 2024 Monte premi 6.409,35 euro Noi costumi Ho già detto i saldi estivi Su Zalando Vestiti Creme solari Sandali Migliaia di look Sconto fino al 60% Solo su Zalando Sono aperti i casting della prossima edizione di Amici Sai cantare o ballare? La vincitice di questa edizione è Sì Aspettiamo te. Iscriviti su wittytv.it Che relax. Senti i gabbiani e il suolo del mare. Ma cosa dici se non siamo ancora partiti? È vero, ma con il nuovo salotto da giardino di Leroy Merlin mi sembra di essere già in vacanza. Solo da Leroy Merlin fino al 29 luglio c'è un'estate di super offerte in tutti i negozi, online e al telefono. Arredo giardino, climatizzatori, vernici, finestre e tanti altri prodotti scontati fino al 50%. Offerta soggetta a limitazioni, scopri i dettagli in negozio su Leroy Merlin.it. Leroy Merlin, voglia di fare casa. R101 Meteo Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. La giornata trascorrerà con il sole e con un caldo intenso e in ulteriore lieve aumento. Un po' di nuvole solo sulle Alpi, con qualche isolato rovescio o temporale nei settori orientali, in esaurimento entrosera. Venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it Questa è la radio che ti fa stare bene. Radio, radio, pianeta. Sempre con te. Pianeta Italia. Pianeta Italia. Solo musica italiana. Buongiorno, benvenuti e bentrovati. Siamo alla puntata e all'appuntamento di mercoledì. Signore e signori, amici e amiche, benvenuti in Pianeta Italia. La storia della musica italiana dagli anni settanta ad oggi, andando a riscoprire le canzoni anche dell'estate di ieri e, perché no, anche la musica di oggi, che andremo a ricordare domani. Si parte quest'oggi dal Festival Bar 1996. Buongiorno, Ricci. Le emoji in un testo, in un messaggio, sono utili, penso. Perché come con la voce si dà il tono per far capire l'umore, il senso della frase, il modo in cui lo si sta dicendo, forse è meglio dirlo così. Sì, è utile, dà quel senso, dà quel colore al testo, mentre solo scrivere con le emoji, sì, è divertente, ma dopo un po' lo penso sia una cosa un po' desagerata, però non è comunque un crimine. Buongiorno, da Mauro, a Piacenza. Ciao, grazie, grazie. A crimine se mandi le emoji con la pistoletta lì, c'è la pistola d'acqua addirittura, volendo da mandare. Mi sto facendo una cultura, perché non è che le usi proprio così tanto, soprattutto quelle meno frequenti, e ce ne sono alcune che ti chiedi proprio, ma quando mai manderò un riccio? Cioè il riccio, l'immagine del riccio, che passeggia, ma perché mai dovrei mandare quelle immagini lì a qualcuno? Tanto vi dico che sono nate nel 1992 in Giappone, chi poteva inventare queste cose? I giapponesi, il signore Shigetakaka, Shigekataka, Shigekurita, vabbè, famosissimo, proprio lui che si è inventato attraverso il messaggio di testo, delle forme di espressioni, che poi nel tempo si sono modificate, tanto da diventare quelle che tutti oggi noi conosciamo. Vai ancora, sentiamo. Ricky, buongiorno, io la mattina, Remilia Emoticon, la tazzina, le due tazzine di caffè. Ciao a tutti, Gianni Blacksmith. Ah, ciao, amico mio, guarda qua, altro che Emoticon, qua è proprio reale, reale, senti, senti, cucchiaino che gira nel caffè, me lo gusto così, alla facciazza, no, vostra, no, è brutto da dire, però così, al mattino ci va, questo è il secondo, dalle 5 che siamo qui in diretta ad ascoltarvi, nel frattempo ci tiriamo su con le nostre tazzulelle e caffè, magari anche con le emoji perché ci sono, sì, effettivamente ho controllato, grazie, chi c'è, chi c'è, chi è vuoi, chi è vuoi, chi è vuoi, chi è vuoi. Per la nera è l'anguria buonissima, dolce, croccante, che fino al 23 luglio ti fa vincere dei super premi ogni giorno, per la nera ha sempre il suo perché, scopri il regolamento del concorso su perlaneratipremia.it Che relax, senti i gabbiani e il suono del mare, ma cosa dici se non siamo ancora partiti? È vero, ma con il nuovo salotto da giardino di Leroy Merlin mi sembra di essere già in vacanza. Solo da Leroy Merlin fino al 29 luglio c'è un'estate di super offerte in tutti i negozi, online e al telefono, arredo giardino, climatizzatori, vernici, finestre e tanti altri prodotti scontati fino al 50%. Offerta soggetta a limitazioni, scopri i dettagli in negozio su Leroy Merlin.it Leroy Merlin, voglia di fare casa. Dove c'è allegria c'è San Crispino! Sì! San Crispino il nostro vino tutti i giorni sulla nostra tavola. San Crispino il nostro vino! Bevete responsabilmente? Hai sentito? Stosa continua a celebrare i suoi 60 anni con una promozione esclusiva. Blocca il prezzo dell'estate e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto a tasso zero. La cucina che ti meriti al prezzo che desideri è già pronta. Cerca il punto vendita più vicino, trova la promozione su misura per te e scegli la tua cucina Stosa entro il 31 agosto. I sogni si avverano con Stosa Cucine. Stosa Cucine, 60 anni di design italiano. Premiati e vai su stosa.it Che incubo! Ho sognato che l'estate era finita. Ma no, stai tranquilla, era solo un brutto sogno. Con Costa estate tutto l'anno. Prenota la tua crociera con Costa entro il 26 agosto da 549 euro a persona e parti per Barcellona, Dubai, Le Antille. Info in agenzia di viaggi o su Costa.it Costa Non volete perdervi nulla della vostra radio preferita? E allora scaricate subito la app DR101 sul vostro smartphone e portateci sempre con voi. Mi raccomando, fatelo adesso, tanto è gratis. Vieni a scoprire la meraviglia degli imperdibili saldi di Calliope. Sconti fino al 70% in negozio e online su calliope.style. Calliope, per uno stile contemporaneo e versatile. Calliope, Embrace Wonder, durata saldi da normativa regionale. Dove c'è l'igria? C'è San Crispino! San Crispino è il nostro vino tutti i giorni sulla nostra tavola. San Crispino, il nostro vino! Bevete responsabilmente. Samsung presenta il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 6. La sesta generazione di pieghevoli, ora con Galaxy e I.I. Traduci telefonate in tempo reale. Con la funzione interprete, comunica con chi vuoi quando sei in viaggio. Libera la tua creatività con la nuova fotocamera intelligente. Inoltre, prendere note e riassumere i testi sarà più facile che mai. Acquistalo su Amazon. Per te fino a 200 euro di supervalutazione garantita se restituisci il tuo smartphone usato. Scopri di più su Amazon.it. A-A-Arredissima. Funzionalissima. Grandissimissima. Fighissima. Pomodissima. Arredissima. Dove la vita è issima. Risparmia subito, fino a 7500 euro. Con 5000 di buono arredissima, più 2500 di bonus mobili 2024. A-A-Arredissima. Mia sorella ha ragione e non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti? Sì, certo. Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50 euro. Solo da Old Wild West. Lasciati sorprendere dal lusso sostenibile. Guida Volvo XC60 Ibrida Plug-in con gli esclusivi incentivi Volvo per clienti privati. Scopri il SUV con tecnologie avanzate di sicurezza e di connettività e basse emissioni. Perfetto per i tuoi spostamenti quotidiani in modalità 100% elettrica e per i lunghi viaggi in libertà. Volvo XC60 Ibrida Plug-in con incentivi Volvo. La mobilità sostenibile ti sorprenderà. Scopri di più su volvocars.it. Ecco che vola. Vola su deghi.it. Esce il portiere. Buongiorno. E consegna! Deghi ha consegnato! Su deghi.it questo mese la consegna è gratuita in tutta Italia. Per la felicità dei portieri e di tutti noi. Riprendiamoci dagli europei arredando case, terrazzi, giardini. Con deghi oltre 45.000 mobili in pronta consegna. E la consegna è gratis fino a fine luglio. Se non deghi, non ci credi. Introdurre il denaro o la tessera. Non ci arrivo. Che imbarazzo. Il casello ti stressa. Muoviti in un altro modo con il telepedaggio Muneigo. Attivalo nei punti Munei o Dapp. Hai sei mesi gratis. Prometzione varida dal 16 maggio all'undici agosto duemilaventiquattro. Messaggio pubblicitario. Regolamento della promozione e condizioni del servizio su Muneigo.it. Corri da Troni. Fino al 24 luglio prendi tre e paghi due. Acquista tre prodotti. Il meno caro è in regalo. Come la macchina automatica Ribella dei Longhi per un caffè dai chicchi macinati al momento. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni. Questo mese mi sono fatta un regalo e ho pagato solo quarantanove euro. Ma cosa? Un abbonamento in palestra? Ma no! Sto parlando della mia nuova Citroen C3. Da non credere, vero? La rivoluzione è iniziata. Con Citroen C3 da quarantanove euro al mese. Tutto il meglio del comfort Citroen in una city car compatta. Tanfisso 410 Taeg 6,92. Rata finale 10.148 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Valide fino al 31 luglio 2024. Ah, dimenticavo! Anche cento per cento elettrica. Se oltre alla buona musica amate la buona tavola, assaggiate la burrata deliziosa. Realizzata a mano con il miglior latte crudo del territorio. Un sottile strato di pasta filata esterno racchiude un cuore morbido di panna e sfilacci di mozzarella. Deliziosa. Un sapore che ti puglia. Questa sedia è perfetta per il nostro soggiorno, vero amore? Mmm, squisita. E quel letto? Il prezzo è buono, no? Buonissimo. Guarda, c'è anche il copri piumino colorato. Carino. Davvero, davvero delizioso. Con i sal di Ikea ci prendi gusto. Approfitta del momento più atteso dell'estate con centinaia di prodotti scontati fino al 50%. E ogni venerdì diventa tutto più gustoso. Al ristorante trovi i piatti più amati a metà prezzo. Hai tempo fino al 18 agosto. Quale sarà la canzone che farà star bene uno o una di voi? Lo scopriamo subito al 331 80 90 101. Chi c'è? Che desidera? La canzone che mi farebbe stare bene oggi è una splendida giornata di Vasco Rossi. Grazie, ciao Sìa da Milano. Come qua, sta vedendo un video sopra Facebook? E all'improvviso, io ce la faccio l'esorcista. E tu? Un coro in canna. Ma soprattutto, buongiorno a te! Oggi si festeggia Sant'Alessio, Beata Carlotta e San Generoso. Sant'Alessio è il protettore di mendicanti e portieri. Ma chi c'è il palazzo del pallone? E ce ne so chi? Amanti dei dolci, in particolare delle torte con la frutta. Allora, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa puntata e vi lascio con la canzone più cantata. Una notizia di economia in chiusura. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo la stima di crescita per l'Italia nel 2025. Il PIB italiano crescerà quest'anno dello 0,7% come nelle previsioni di aprile, mentre l'anno prossimo segnerà un più 0,9% il rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle precedenti stime. In variate rispetto ad aprile le previsioni per la Germania a più 0,2% nel 2024 e più 1,3% nel 2025, mentre per la Francia il Fondo Monetario Internazionale ha ritoccato al rialzo la stima di quest'anno a più 0,9% e il limato a ribasso quella del prossimo, a più 1,3%. Abbiamo terminato più tardi. Radio Mi Piaci Buongiorno a tutti, sono Tania Cessenatico e anche io ascolto Radio Mi Piaci. Buon ascolto a tutti e un abbraccio fortissimo. 334 38 37 444 Mandaci un messaggio WhatsApp e lo riascolterai su Radio Mi Piaci. 334 38 37 444 Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. E' arrivata la banda, assolare la sveglia, come una secchiata d'acqua fresca. E' arrivata la banda, dell'Italia si sveglia, per stare bene basta. Carichi a pallettoni in questo giro di boa della settimana, buon mercoledì dalla banda di R101. Eccoci qua, fino alle 9 del mattino in diretta con Chiara Tortorella, Paolo Dini. Io vi chiedo di rispettare il mio dolore perché oggi faccio fatica ad essere carico a pallettoni, amici. Che succede? E' strano che sui giornali non trovi menzione della tragedia Occorsami, ieri nel pomeriggio. Che hai fatto? Sono andato in cantina a fare un giro, a dare un'occhiata, come faccio sempre. Nella tua stanza dei giochi, diciamo. E sento un'insolita puzza di vino, il che è normale, direte voi, in una cantina si sente un odore di vino. Sono saltati i tappi di vino. No! No, ma per il caldo, per il caldo. Veramente? Quattro bottiglie di bonarda. No! E' saltata. La bonarda è per il zantino. Il tappo ha forzato anche la camicetta di plastica che serve per contenere vino d'acqua. Avresti preferito i ladri in casa. Sì, forse sì. Adesso hai messo in cantina i gioielli, quindi tutti i vini li hai messi nella cassaforte. Sotto il letto li ho messi adesso. Si soffre il caldo, ragazzi. Che disastro! Tutto questo aneddoto per dirci che alla tua cena dove ci hai invitato dobbiamo portarla a bere. Ma a luglio mica vi faccio bere in rosso, ragazzi. Come no, ma sì. No, dai, però è una tragedia nel mio piccolo, insomma. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Paolo, accaldatissimo che sta per stapparsi anche il nostro Leonardo Fiaschi con tutti gli ospiti della banda di R101. Sentiamo chi prende in mano il telefono. Buongiorno, purtroppo è successo ieri nel pomeriggio proprio a casa di Paolo. Attentato, attentato. Quattro, si dice dalle quattro alle dieci. Scusate, Enrico, uno dei cappi mi ha sfiorato l'orecchio. Addirittura, è già arrivato l'aggiornamento, grazie al nostro Paolo Dini. Uno dei tappi mi ha girato l'orecchio. Sì, è ancora la ferita. Sento prontamente portato fuori dalla cantina, protetto da quattro, cinque persone. Queste sono cose, ma approfondiremo per capire meglio come andranno le cose, perché molto probabilmente questa mattina altri tappi potrebbero uscire saltare. No, non lo dica. Non lo dire. Non lo dire. Mentre Paolo Dini è a lavoro. A lavoro, vabbè. Faranno anche le emoji di Paolo Dini, oggi giornata mondiale delle emoji. Con un tappo che mi sfiora l'orecchio. Con un orecchino sul lobo enorme. Già due ore, buongiornissimo con Riccardo Russo, avete parlato proprio di emoticon. Sì, sì, tra i più svegli d'età tutti le usano e la più usata incredibile, l'avrei mai detto, il pollicione in su, che è un grande classico. Un grande classico. Va bene su tutto. Sì, però c'è anche la bottiglia che si stappa effettivamente come emoticon. Tra i vari effetti del caldo è anche il pastore tedesco che si è lanciato nella fontana, qua in Largo Donegani stamattina, e la sua padrona non riusciva più a farlo uscire. L'andava da una parte, lui faceva tutto il giro dall'altra. E chi crede di essere? Anita Egberg? Scusami, è più paziente. Bellissima scena, poi quando è sceso e si è scrollato è stata festa per tutti. Cambia alimentazione, Chiara. Ma ci si è anche spaventato perché pensava fosse tipo un mio fratellino che fosse finito nel mare, invece io ero proprio nel mondo dei sogni. La gente che non ha una cantina ragiona come te poi alla fine. Bravo, è vero. Ti hanno registrata poi? Che cosa? Dove? Questo audio c'è da qualche parte. Eh no, purtroppo nessuno ha filmato. Presto che tardi, presto che tardi. Siamo giusto una voce, visto che ci state rispondendo già al 331 80 90 101. Io sono riuscita ad addormentarmi perfino in discoteca, per iconi stupendi peraltro. Ciao e we were. Ci sono, ne conosco anch'io, gente che si addormentava sui divanetti vicino alle casse. Siamo arrivati lì per una ragione ben precisa, ma ve la raccontiamo tra poco. Ninna nanna, ninna oh, l'incentivo a chi lo do. Pennichella sotto il sole e ti bruci l'affarone. Chi dorme non piglia incentivi. E allora cosa aspetti? Corri subito in concessionaria a prenotare il tuo incentivo statale prima che si esauriscano. Scopri la gamma Fiat e tutte le offerte su nuova Panda Hybrid, nuova 600 Hybrid e tipo diesel. La scegli adesso, ti godi le vacanze e inizi a pagare da ottobre. Siamo aperti anche il sabato. Info su fiat.it. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto. Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole coccente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma. Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire. C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con Carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. L'estate con Lidl è tutta da mordere. Goditi le gare di tuffi. Il relax dopo tanta fatica. I grandi classici attorno al falò. E una spesa senza pensieri con le superofferte di Lidl. Per te da lunedì a domenica. Formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 89 centesimi. E vaschetta gelato da un chilo a 2,99 euro. Mordi l'estate. Lidl, anch'io. R101 Meteo Una buona giornata da Virginia Giacomina. Le previsioni meteo per oggi. L'anticiclone nord-africano insisterà sull'Italia almeno fino alla fine della settimana. Garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, ma anche molto caldo. Giornata tra sole e nuvole sulle Alpi oggi. Dove nel pomeriggio si formerà anche qualche temporale. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Con qualche temporaneo innocuo a nuvolamento solo su Piemonte, Liguria, Lombardia e Appennino Meridionale. Temperature senza grandi variazioni, massime per lo più comprese fra 32 e 36 gradi al nord, fra 33 e 40 gradi al centro-sud e nelle isole. Venti deboli, mari calmi o poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di Medio.it. Questa, questa è la radio che ti fa stare bene. R101 Enjoy the summer Enjoy the music R101 Il profumo delle cose buone? Riscoprilo alla pasticceria Guerini. Un ambiente rinnovato ed accogliente per incontri di gusto. Pasticceria Guerini Dove prendono forma torte con decori personalizzati, fotografie o qualsiasi altra immagine tu voglia. Servizi per cerimonie e occasioni particolari. Pasticceria Guerini Incontriamoci lì per un caffè accompagnato da una gustosa brioche o un delizioso pasticcino. Tutto prodotto artigianalmente con prodotti di qualità. Pasticceria Guerini Dal 1980 Il buono di ogni giorno In via Marconi 24 a Cividate a Piano Bergamo Telefono 0363 97 013 Chi sceglie un'auto per il piacere di guidare Sceglie Carrozzeria SV Car La Carrozzeria SV Car È vendita auto nuove ed usate Officina meccanica Gommista Carrozzeria Recupero e assistenza a carroattrezzi 24 ore Carrozzeria SV Car Di Velotti Vincenzo Via Marconi 142 Cividate a Piano Bergamo Info 0363 94 51 37 Pronto intervento 339 27 96 031 Carrozzeria SV Car È la passione che ti guida Centro specializzato per la sanificazione dell'abitacolo e dell'impianto clima Sanifica e igienizza la tua auto con il generatore di ozono Radio Pianeta Sempre con te E tu scusa se mi permetto ma sei sicuro di essere comodo lì sopra? Perché in poltrona e sofà Con i doppi saldi sconti del 70% sulla collezione affari d'oro Occhio eh Che gli affari d'oro si fanno solo fino a domenica Negli oltre 300 negozi Poltrona e sofà Solo divani di qualità Verificare modelli a disponibilità in negozio Notizia eccezionale Questa estate con Rocchetta 2 più 2 fa 6 Acquista 4 bottiglie di acqua Rocchetta E te ne regaliamo altre 2 Con Rocchetta Ti depuri Ti idrati E sei più bella d'estate Rocchetta Puliti dentro e belli fuori Plim plim E ricorda 2 bottiglie sono in regalo Parola di Michelle I programmi di Radio 1 Proseguono ora a diffusione locale Con il giornale radio Trasmesso dalle sedi regionali della RAI TGR Giornale radio del Lazio Grazie